ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono rosella pani e sono una coach spirituale e un insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche in questo video ti parlerò dell'importanza di uscire dai pensieri negativi prima di iniziare però è importante sapere cosa sono i pensieri i pensieri non sono altro che energia in quanto noi stessi nel nostro corpo fisico siamo energia in uno in un livello vibratorio molto più denso i pensieri sono un altro livello di energia ok molto spesso quando siamo a quando abbiamo la mente affollata di pensieri negativi succede questo che magari stiamo pensando a un problema magari dobbiamo risolvere un problema magari abbiamo dei sistemi di credenze limitanti che ci fanno sentire impotenti in una certa situazione quindi non riusciamo ad affrontare la situazione stessa e quindi non facciamo altro che avere pensieri negativi uno dopo l'altro quindi da un pensiero negativo si creano le cosiddette forme pensiero i pensieri non sono dentro il cervello come molti credono i pensieri si trovano intorno al nostro campo energetico nella parte più alta del nostro corpo quindi intorno alla nostra testa tanto è vero che proprio come una nuvoletta una nuvoletta intorno al nostro corpo fisico e se questi pensieri sono densi sono pensieri di paura sono pensieri distruttivi questi ci ci fanno credere di essere quasi dentro le nostre cellule e alle volte ci identifichiamo con i pensieri e crediamo quindi di essere impotenti di non riuscire a fare una certa azione di non riuscire a realizzarci nella vita di non riuscire a trovare un lavoro un compagno di vita degli amici sono tanti pensieri negativi che affollano la mente degli operatori della luce ok ricordiamoci però anima in risveglio che questi pensieri possono essere trasmutati possono essere trasformati è anche importante capire che le credenze che noi abbiamo nel nostro inconscio non sono altro che dei pensieri solidificati cioè si tratta di un pensiero ripetuto tante volte e quindi passa dalla parte consapevole al nostro sistema inconscio diventa una realtà diventa verità per il nostro inconscio e quindi anche per la nostra vita quindi alle volte abbiamo delle credenze limitanti delle credenze di paura che ci immobilizzano perché perché quei pensieri li abbiamo ripetuti tante volte nella nostra mente e quindi sono diventati per l'inconscio legge ma noi possiamo cambiare la legge come cambiando i nostri pensieri cambiando le nostre credenze ho parlato in tantissimi video dell'importanza della riprogrammazione io capisco che può essere all'inizio difficile riuscire a riprogrammare l'inconscio anche attraverso le affermazioni positive che a mio parere sono potentissime perché ripeto la ripetizione ci consente di far diventare legge per il nostro inconscio possiamo noi creare consapevolmente i nostri pensieri anche la nostra realtà facile a dirsi più difficile da farsi insegno nei miei percorsi di coaching una modalità molto potente che si chiama logo ceiling oggi andremo a vedere un attimino nello specifico cos'è logo ceiling per aiutarvi a comprendere che non sono solo parole ma che in realtà questo lavoro energetico è molto potente per sciogliere e per togliere densità al pensiero per trasformarlo e per cambiare noi stessi la percezione della nostra realtà rispetto al pensiero stesso o al sistema di credenze che in questo momento ci sta limitando ci sta bloccando ci sta immobilizzando quindi ripeto molti operatori di luce non riescono ad agire nella direzione dell'anima perché hanno paura perché si sentono bloccati e questo è un modo per uscire per cambiare la nostra realtà in quanto l'arcangelo michele molti anni fa mi disse cambiando la tua energia tu cambi la tua realtà come fare ora andremo a vederlo nello specifico naturalmente qua si tratta di un di una prova naturalmente se i pensieri negativi sono tanti bisogna agire su ogni singolo pensiero anche se è vero che quando noi andiamo a eliminare un pensiero sorgente per così dire noi alle volte riusciamo anche ad eliminare tutti i pensieri negativi connessi ad esso ok però in alcuni casi bisogna lavorare più ore più giorni più sessi in più sessioni per pulire completamente la nostra mente per liberarci da queste strutture pesanti che abbiamo nel nostro campo energetico e che ci fanno stare male ricordiamoci che alle volte la le paure ho parlato nel video precedente delle paure degli operatori di luce ma alle volte si entra in un livello di paura talmente grande che abbiamo paura della paura e si arriva addirittura a ricevere pensieri che sono completamente irrazionali quindi magari anche la paura di morire soprattutto nel risveglio spirituale si può entrare anche in un livello di depressione per così dire ci sentiamo impotenti dobbiamo guarire tutte le ferite come la ferita dell'abbandono la ferita del rifiuto la ferita di soprusi che abbiamo subito la ferita di violenze che possiamo aver subito sono veramente tanti gli argomenti da trattare con logo ceiling ma noi andremo adesso a lavorare su una singola paura perché bisogna iniziare da una singola paura ma ripeto il lavoro è un lavoro che è molto profondo e se si lavora in tantissimi livelli è possibile uscirne è possibile riprogrammare la nostra mente inconscia ed è possibile vivere una vita appagante una vita in allineamento all'anima allora un modo per farvi capire che i pensieri non siete voi anche quello di staccarvi dal pensiero quando i pensieri sono troppi e sono veramente tanto negativi è un po difficile fare questo però cercate di immaginare quei pensieri come una nuvoletta intorno alla vostra aura intorno alla vostra testa che vi sta a vista le volte chi ha pensieri molto negativi viene addirittura il mal di testa quella pesantezza di non riuscire nemmeno a tenere aperti gli occhi ok e possono essere dei veri e propri attacchi psichici quindi molto spesso operatori della luce quei pensieri possono essere sia le vostre credenze ma potrebbero essere anche dei pensieri non vostri potrebbe darsi ad esempio che siete entrati in un ambiente specifico lavorativo piuttosto che in un negozio piuttosto che in una stanza dove magari ci sono state persone che hanno avuto dei conflitti o magari ci sono persone molto arrabbiate persone che vivono costantemente nella rabbia nel rancore nella paura e nell'odio e magari voi essendo così sensibili potreste aver assorbito il peso energetico di altre persone per questo avete mal di testa e per questo vi vengono dei pensieri e voi dite ma questi pensieri non sono i miei chi si accorge di questo in una fase di risveglio avanzato ripeto un pensiero molto spesso capita anche che sentite quella vocina che non è la voce interiore perché la voce interiore una voce di amore una voce potenziante è una voce che ti guida al perdono alla compassione alla guarigione all'elevazione alla gioia all'entusiasmo mentre quella vocina che giudica in continuazione è l'ego ok quindi questo è un esercizio che vi servirà per uscire dai pensieri negativi ma anche per uscire dal giudizio solo attraverso il non giudizio anime infinite voi vi renderete conto che quei pensieri non sono i vostri per almeno il 90 per cento perché molte persone si chiedono ma perché ho questi pensieri perché mi sento così diciamo che avere dei forti pensieri negativi poi agisce sul livello sul piano del corpo emozionale perché ad un pensiero negativo o a più pensieri negativi si possono associare emozioni negative le emozioni negative irrigidiscono il corpo fisico e quindi ci sentiamo esausti ci sentiamo stanchi fiacchi ci sentiamo depressi e quindi questo ci porta ad abbassare la frequenza vibratoria e questo ci porta in alcuni casi in casi estremi quando questi pensieri negativi e queste emozioni negative si diciamo procradono per un lungo periodo di tempo possiamo rischiare veramente di ammalarci spiritualmente nell'anima nelle emozioni e nel corpo fisico il corpo fisico è l'ultimo livello quindi arrivare ad ammalarci nel corpo significa che per un lungo periodo di tempo abbiamo sofferto magari abbiamo vissuto dei traumi più o meno intensi anche dell'infanzia nell'adolescenza anche in età adulta ripeto anche la ferita dell'abbandono può causare malattia e anche il rifiuto ma anche le violenze quindi l'unico modo per uscirne è uscire da questa matrix che ci incatena che ci imprigiona e per fare questo sono fondamentali dei lavori spirituali quindi lavorare con un coach spirituale significa lavorare sul piano dell'anima ma non solo perché vai a lavorare nel corpo emozionale nel corpo spirituale e nel corpo della mente quindi in tantissimi livelli per guarire le ferite dell'anima un lavoro molto potente quello del perdono io ne parlo in quasi tutti i video dell'importanza del perdono però può darsi che in questo momento che tu sei in piena sofferenza in piena turbolenza non riesci a perdonare non vuoi nemmeno perdonare allora perché non iniziare a pulire i pensieri negativi le emozioni negative e quando il canale inizia a purificarsi quando tu inizi a sentire di nuovo quella sensazione di pace di armonia e di speranza per la vita allora si può anche iniziare a fare un discorso sul perdono e per fare il perdono si può seguire il processo del perdono che io ho pubblicato una preghiera del perdono una persona alla volta la potete trovare nel mio sito connessioneangeliche.com tra le risorse gratuite e poi fare il percorso come vi ho detto prima con logos healing ora vi descriverò brevemente di che cosa si tratta e andremo a farlo per pochi minuti insieme io naturalmente vi consiglio di non fare questo lavoro da soli perché avete bisogno di un coach di un aiuto spirituale va bene però fatelo insieme a me attraverso il video però ripeto per cose molto profonde avete bisogno di un aiuto dovete imparare come si fa bastano dalle 5 alle 10 sessioni per diventare autonomi e indipendenti va bene non in pochi minuti questo è molto importante ci tengo a precisarlo però vorrei mostrarvi come è potente quindi vi chiedo di lavorare su una piccola paura o magari in questo momento avete una preoccupazione quindi non andiamo a lavorare sul pro sul problema più grande che avete andiamo a lavorare su quello che c'è un po in superficie poi lavorando nello specifico lavorando al fianco al mio fianco al fianco di un coach voi avete la possibilità di entrare più in profondità e di andare a guarire quelle che sono le ferite più antiche dell'anima che possono riguardare l'infanzia ma addirittura le altre vite possono riguardare anche legami legati agli antenati possiamo anche eliminare impianti ok però è importante questo ci tengo a precisare che voi per eliminare i cosiddetti impianti perché questo ci tengo a dirlo alcune persone hanno forme pensiero di paura e pensieri completamente irrazionali paure dei demoni paure che accada una catastrofe paure di morire paura di del prossimo ecco queste paure infondate quasi da film dell'orrore è possibile che voi abbiate nel vostro subconscio degli impianti gli impianti sono dei programmini quindi sono dei sistemi di credenza che sono stati impiantati da alcune entità negative che non vogliono il vostro risveglio che proprio nel momento in cui voi vi state risvegliando siete nel risveglio vogliono bloccarvi non vogliono che voi non vogliono la vostra evoluzione non vogliono la vostra crescita spirituale vogliono mantenervi nelle basse frequenze di dolore paura e sofferenza quindi c'è veramente tanto da dire sui pensieri negativi ripeto i pensieri negativi nel 90 per cento dei casi o se proprio una persona negativa in partenza ma questo è molto raro molto probabilmente il 90 per cento dei pensieri negativi che avvolgono la tua mente non sono nemmeno i tuoi ok tornando a logo ceiling logo ceiling è una modalità di guarigione potentissima che si avvale del potere della parola attraverso il potere della parola è possibile recuperare la tua energia vitale legata a un pensiero negativo a un blocco a un impianto a un sistema di credenze negative a emozioni negative a traumi del passato quindi tu puoi veramente lavorare su tantissimi livelli con logo ceiling vai a recuperare la tua energia vitale legata al problema e va a riportarla nel posto più giusto in te stessa si chiama logo ceiling con l'arcangelo michele in quanto abbiamo il potere liberatorio dell'arcangelo michele che agisce in profondità in tantissimi livelli per liberarci molto molto più velocemente rispetto alle tecniche tradizionali ok poi si va a rilasciare le energie non si vanno a rilasciare le energie non due legate al problema alla paura al sistema di credenze e si vanno a liberare tutte le cellule tutti i corpi sottili l'intero tuo essere per ritornare le mandi nel posto giusto alle quali appartengono veramente le rimandi a dio all'arcangelo michele che sanno cosa devono fare poi c'è un'altra terza frase di recupero ripeto logo ceiling nasce dalla logo sintesi di william lemmers se non sbaglio la pronuncia è questa però è stato da me completato con l'aiuto dell'arcangelo michele perché mentre aiutavo una cliente ho canalizzato le frasi le ho completate completate per il mio modo di essere per la mia sensibilità avevo bisogno di un aiuto superiore ossia l'aiuto dell'arcangelo michele che determinante in questo processo di trasmutazione delle energie quindi andrà a passare da un ottava inferiore quindi paura a un ottava superiore ok ossia benessere perché vai a recuperare quello che il tuo potere spirituale e personale e lo riporti nel posto più giusto e in te stessa in te stesso ricordiamoci nel caso dei traumi che alle volte le persone non fanno altro che immaginare per anni anni e anni sempre le stesse immagini di paura legate a un trauma e questa ripetizione e questa immaginazione negativa non fa altro che paralizzare e a qualche livello la tua energia vitale si trova ancora lì se questo trauma l'hai subito l'anno scorso dieci anni fa vent'anni fa la tua energia vitale ancora lì vent'anni fa indietro nel tempo e devi andare a recuperare quelle che sono le parti della tua anima per riportarle nel posto più giusto in te stesso in te stessa e questo è un lavoro straordinario che si può fare con logo ceiling quindi non c'è bisogno di andare in trance per recuperare l'anima l'anima si può recuperare con questo metodo potente ma ora abbiamo parlato o spiegato brevemente di che cosa si tratta andiamo a vedere nello specifico innanzitutto faccio una preghiera di protezione chiedendo a dio all'arcangelo michele di venire qui ad ora di aiutarci di sostenerci in questo lavoro energetico di tagliare tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni in tutte le direzioni del tempo spazio chiedo a te arcangelo michele di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre arcangelo michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione ora per sempre per l'eternità chiedo massima protezione guida e assistenza in questo lavoro energetico bene anima infinita ora io ti chiedo di concentrarti e di immaginare non è non è nemmeno bisogno perché magari in questo momento sai già su quale tema vuoi lavorare magari prendi un pezzo di carta carta e penna puoi mettere pausa nel video e adesso puoi riprendere e puoi scrivere quella che è la tua paura allora ora che hai scritto quella che è la tua paura iniziamo ripeti dopo di me ok autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata 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 alla paura quindi adesso dovrai ripetere quella che la tua paura ti faccio un esempio legata alla paura di parlare in pubblico ok e la riporto nel posto più giusto in me stesso o in me stessa ora inspira ed espira profondamente così seconda frase lascio andare tutte le energie non mie da tutti i miei corpi e dal mio spazio personale da ogni mia singola cellula legate alla paura di parlare in pubblico o tu dirai la tua paura e le rinvio nel luogo giusto alle quali appartengono veramente le rinvio a dio e all'arcangelo michele loro sanno cosa devono fare ora inspira ed espira profondamente autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni legata a tutte le mie reazioni legate alla paura e la riporto nel posto più giusto in me stessa o in me stesso inspiro ed espira profondamente ripetiamo un altro giro autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata alla paura e la riporto nel posto più giusto in me stesso in me stessa inspiro ed espira profondamente lascio andare tutte le energie non mie da tutti i miei corpi sottili dal mio spazio personale da ogni mia singola cellula dall'intero mio campo energetico legata alla paura e le rinvio nel luogo giusto alle quali appartengono veramente le rinvio a dio e all'arcangelo michele loro sanno cosa devono fare inspiro ed espira profondamente ok terza frase autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni legate alla paura e la riporto nel posto più giusto in me stessa inspiro ed espira profondamente ok ora potrebbe capitare che hai una reazione nel corpo potrebbe essere un dolore al petto potrebbe essere formicolio potrebbe essere qualcosa di piacevole o dispiacevole se si tratta di qualcosa di piacevole puoi andare avanti con le frasi se si tratta di qualcosa di spiacevole andremo a lavorare su quel sintomo che potrebbe essere ad esempio un leggero mal di testa o un'immagine che hai visto oppure ti potrebbe venire da piangere oppure senti leggerezza totale oppure potresti non sentire niente ok quindi non consiglio di fare questo con da soli perché avete bisogno di capire come funziona come fare questo tipo di lavoro facciamo un ultimo giro di frasi ok se hai una reazione come mal di testa un dolore al petto andremo a lavorare sul sintomo quindi ok hai mal di testa bene facciamo un altro giro quindi inizia se invece non hai nessun sintomo vai avanti col discorso della paura cioè dovrà quando io dirò legato a parlerai della tua paura se invece hai un sintomo come il mal di testa andremo a lavorare sul mal di testa va bene quindi iniziamo autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata al mal di testa e la riporto nel posto più giusto in me stessa o in me stesso inspiro ed espiro lascio andare tutte le energie non mie da tutti i miei corpi e dal mio spazio personale da ogni mia singola cellula legato al dolore alla testa dal mal di testa e le rinvio nel luogo giusto alle quali appartengono veramente le rinvio a dio e all'arcangelo michele loro sanno cosa devono fare inspiro ed espiro autorizzo dio e l'arcangelo michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni legate al mal di testa e la riporto nel posto più giusto in me stesso o in me stessa inspiro ed espiro profondamente ok se il sintomo c'è ancora sicuramente è sceso questo dolore alla testa quindi sicuramente ora sta un pochino meglio se ancora non è andato via manda indietro leggermente il video e ripeti la frase fino a quando il mal di testa va via e così ti rendi conto di come se sei passato da un problema di un valore pari a 8 10 10 10 può essere il livello massimo quindi una paura grandissima oppure un blocco grandissimo un'emozione negativa grandissimo l'obiettivo è quello di portare da 10 a 0 quindi annullare completamente l'effetto della paura l'effetto dell'emozione negativa il blocco stesso questo è possibile naturalmente non in tre giri di logo ceiling molto probabilmente bisogno di una sessione di un'ora o di più sessioni da fare possibilmente al mio fianco quindi per qualsiasi informazione io ho voluto mostrarti come è possibile cambiare la percezione della realtà perché molto probabilmente anche in soli tre giri di frasi stai meglio ti senti più centrato ti senti più lucido ti senti più in equilibrio quindi è possibile uscire dalla paura e questo sistema è veramente potente uno strumento che tutti gli operatori di luce tutti gli operatori o comunque tutte le persone che vogliono stare bene e vogliono uscire dalla negatività potete farlo potete veramente uscire dal dall'ego uscire dalla paura uscire dai blocchi uscire da tutto ciò che ti sta intrappolando in una vita di dolore e di sofferenza quindi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi io vi saluto e ci sentiamo presto un bacione ciao ciao